Due auto danneggiate, tre feriti lievi, salvi i pedoni di passaggio. Questo è il bilancio finale dell'incidente di ieri mattina ad Eboli, quando due ragazzi a bordo di una Toyota Yaris bianca non hanno rispettato lo stop e hanno colpito la peggiorosta di un anziano. Il pensionato è stato scraventato con l'auto su marciapiede a pochi metri da un parrucchiere. La macchina ha danneggiato un cestino e alcuni dissuasori di sosta, ma per fortuna i pedoni di passaggio non hanno riportato lesioni. I tre incidentati sono stati trasferiti in ospedale, da dove sono stati dimessi in giornata con lievi prognosi. Subito dopo l'incidente, in zona è giunto l'assessore Ginetti con una ditta che ha ridisegnato la segnaletica stradale.